Non ci sono assolutamente buone notizie, signori, per il pubblico che segue ballando con le stelle, infatti Millie Carloci ha appena saputo che una possibile concorrente ha rivelato che non prenderà proprio parte al programma. C'è stato anche un complimento da parte di questa VIP della televisione, ma alla fine i telespettatori dovranno accettare la cruda realtà. Sembrava che potesse essere quasi fatta, invece è arrivata una vera e propria batosta per la trasmissione di Rai 1. Sono uscite tante indiscrezioni sul cast di Ballando con le stelle, con Millie Carloci che avrebbe contattato moltissima gente famosa per provinarla. E questo personaggio molto apprezzato, reduce da un'importante esperienza a Mediaset, pareva essere quello giusto per innalzare ancora di più il livello. Ma bisognerà guardare altrove perché la sua risposta è stata chiarissima e non lascia spazio ad altro tipo di interpretazioni. Proprio nelle scorse ore vi abbiamo fatto una lista di nomi, scritta dal sito tv blog, a proposito di coloro che potrebbero partecipare a Ballando con le stelle. Millie Carloci sembrava avesse puntato anche su questa VIP, ma non è stato così. In lizza per un posto nel programma ci sono, tra gli altri, Serena De Ferrari, Nino D'Angelo, Dan Peterson, Rosanna Lambertucci, Antonio Mezzancella, Michele Placido, Francesca Alotta, Maurizio Micheli ed Edwige Fennec. Ad aver smentito tutto è stata l'ex opinionista del GF VIP ed ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, bellissimo programma, ma non ho mai sostenuto nessun provino per ballare. Quindi, ha voluto rendere omaggio alla trasmissione di Millie Carlucci, dicendo che si tratta di un programma certamente importante, ma nel suo futuro non c'è alcuna intenzione di mettersi in gioco in questa tipologia di contesto. Quindi, lei non ci sarà. Non resta che aspettare le prossime settimane per capire se qualche nome fatto in queste ore sia davvero attendibile. Da non escludere anche il possibile intervento di altri personaggi famosi, che potrebbero confermare o smentire queste indiscrezioni. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.